Ma Chiellini, Chiellini, già è posto in società, lo sto dicendo già qualche anno, quindi ci mancherebbe da questo punto di vista. Loro sa che crediamo molto in lui, una persona stimata, rispettata, riverita da questo punto di vista, quindi ci mancherebbe. Ma del Piero del Piero, l'abbiamo detto tante altre volte, che comunque è una persona che ha i figli, se non sbaglio, a Los Angeles e quindi sta ascoltando un egregio successo per quanto riguarda poi il suo voler dimostrare, spesso e volentieri, le sue capacità, non solo in ambito calcistico, ma per quanto riguarda le emittenti, le emittenti televisive. Quindi io credo che poi entrare in Juventus, da questo punto di vista, che possa essere del Piero, chissà quale altro tipo di giocatore, scegliete voi, non è un grosso problema da questo punto di vista, comporta un cambiamento totale, radicale, dello stile di vita di ognuno di noi. Quindi, ripeto, del Piero credo che sia felice, qualora lui voglia avvenire, sa che comunque alla fine ci deve essere questo cambiamento, tra virgolette, abbastanza radicale, ecco.